Ok dai forza questo round Bravissimi Bravissimo Giuseppe Vai a papà vai Rocco dove sei? Dai forza Pronti? 3, 2, 1 Prossimo esercizio Dai per bene forza Bravi tutti Vai Giuseppe bravo papà vai Forza Giuseppe dai Bravo bravissimo Sì Bravo Giuseppe ottimo papà vai Sì Bravissimo Prossimo esercizio vai Terzo Squat jump asimmetrico Forza Sì Bravi Bravissimi Bravissimi Piegatevi bene Cambio lato Cambio gamba Veloci Bravissima Antonella Sempre il capitano della squadra Delle lezioni di fitness Per la resistenza per la resistenza Per la resistenza number one Prossimo Forza 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 Bravissimo Giuseppe Bravissimo Giuseppe Dai fate per bene il lavoro Dai fate per bene il lavoro Prossimo Dai Per bene con i manubri Ultimo esercizio il quinto del nostro cheat circuit interval training Abbiamo fatto due minuti e mezzo di lavoro Cinque esercizi da 30 secondi l'uno Bene Allora con i manubri Rematore Bravo Giuseppe vai Fai vedere a papà Sì Sì Così Bene Rematore con manubri E lento manubri Ok Un rematore con manubrio E poi due Spinte sopra la testa Stop Pausa Bravissimi